Il soggetto sente? Questo è più per la verticalità del soggetto. Quando tocca la tua fonte, sia in un altro posto o in un altro luogo. Come sei? L'aperto o chiuso? L'aperto. Rispondi velocemente. L'aperto. Il giorno o notte? L'aperto. Quanti anni hai? 17. Come ti chiami? Cadua. Dimitarla. Cosa vedi a tono? Una foresta. Conosci questo posto? Sì. Senti, Carla, che sei in questa foresta. Quanti anni hai? Ci sento. Perché sei in questa foresta? Perché ci abito. Come ti senti? Bene. Bene. Per noi tu lasciamo così. Bene. Ben. Sei inizio da benigni. Ecco. Bi che sei inanna io che le riprano. Inizio da benigni. Ahikolo. Es Pixelale.